Poche ore al taglio del nastro, Morbegno dà gli ultimi ritocchi ai preparativi per questa edizione numero 111 della mostra dedicata a quello che viene definito il formaggio da meditazione apprezzato in tutto il mondo. Parliamo naturalmente del Bitto e di questa celebrazione dedicata in realtà a tutta la summa di sapori, tradizioni enogastronomiche e di conseguenza a quell'indotto alimentare e culturale delle Alpi. Una manifestazione con tante sfaccettature nella quale ad incontrarsi saranno i sapori, con i numerosissimi stand dedicati alle gioie del Palato, della quale Valtellina e Val Chiavenna sono prodighe dispensatrici e ai rispettivi cultori. Quindi degustazioni e assaggi guidati, ma non soltanto. Questa mostra del Bitto sarà anche l'occasione per scoprire un connubio musicale di artisti tra sonorità moderne e ritmi tradizionali, oltre ai gruppi folcloristici con concerti ed esibizioni che si snoderanno tra Polo Fieristico, Piazza Sant'Antonio e Piazza Caduti per la Libertà. E poi gli spettacoli e gli spazi dedicati agli animali parte indispensabile di quel connubio in cui l'uomo interagisce in questo territorio che è unico. Spazio poi alla cultura, grazie alle visite guidate attraverso le quali scoprire le suggestioni che una cittadina fondata ai piedi delle Orobbie, grazie a tesori artistici e architettonici unici, riuscirà senza dubbio ad offrire ai propri ospiti. E se di ospiti dobbiamo parlare, varrà allora la pena ricordare la presenza, nel palinsesto della manifestazione, di due beniamini della TV nazionale. Benedetta Parodi, interprete dello show cooking, incentrato su ingredienti chiaramente del territorio, in programma domenica dalle 14 alle 16. E poi Jimmy Ghione, presente alla Kermess per l'intera giornata di sabato. Entrambi saranno i protagonisti delle due dirette TV di TSN, visibili naturalmente sui canali 172 e 695 in tutta la Lombardia, oltre che in live streaming sul sito radio.tsn.tv e sui nostri social. Ed è proprio il noto inviato di striscia la notizia che quest'oggi abbiamo incontrato al suo arrivo a Morbegno. La tua professione ti porta in lungo e in largo in giro per l'Italia. Quanto sono importanti episodi come quello di domani e di dopodomani, appunto, la mostra del Bitto? Beh, per me sono importantissimi anche perché io sono un po' per salvaguardare il prodotto italiano, che è il migliore del mondo. Stiamo parlando ovviamente di un prodotto alimentare. Noi con striscia abbiamo fatto una battaglia che porteremo avanti ancora per un po' e speriamo di finirla. Ma perché? Perché il momento deve arrivare prima o poi. Non è possibile che ci siano tutti questi prodotti alimentari tarocchi nel mondo. Ricordiamo che il prodotto alimentare tarocco nel mondo vale 60 miliardi di euro. Sono soldi che potrebbero entrare nelle tasche dei nostri produttori. E quindi io, quando si tratta di parlare, di appoggiare manifestazioni come queste e dove il Bitto, 111 anni tra l'altro, quindi bisogna salvaguardare assolutamente questo prodotto e non solo questo prodotto. E quindi la nostra battaglia con striscia va avanti e io ovviamente il mio cuore lo metto sui e nei prodotti alimentari italiani. Possiamo dare per ultimo un appuntamento agli spettatori di TSN? Certo, io vedo questo appuntamento. Per domani ci sarà questa diretta e quindi domani mi raccomando sintonizzatevi perché vi faremo vedere delle cose bellissime. Vedrete.